Ben ritrovati cari amici di benessere.com, in questa puntata con la dottoressa Marianna Berizzi parliamo di resilienza. Dottoressa, resilienza è una parola che abbiamo iniziato a conoscere soprattutto in ambiti legati all'ambiente, all'ecologia, ecosistemi in grado di sopravvivere ed adattarsi, ma in psicologia che cosa si intende? Spesso viene utilizzato il termine resilienza come capacità adattiva nel superare, nel sopravvivere a degli eventi avversi di vita. In realtà io credo che sia opportuno sdoganare questo termine per la quotidianità ed intenderlo come la capacità di una persona di riuscire a vivere al meglio quello che quotidianamente può essere una piccola grande sfida. Questo significa che, a ragion veduta, non si nasce fortunatamente resilienti, ma è una funzione che può essere conquistata durante la crescita e può essere addirittura allenata. Qual è quindi il profilo della persona resiliente per eccellenza? La persona resiliente la riconosciamo poiché è una persona che sopporta i dolori senza lamentarsi e regge le difficoltà senza disperarsi. E quando parliamo di dolori, ovviamente non si intendono solo dolori e sofferenze a livello fisico, ma anche a livello psichico e a livello emotivo. È una persona che ha il coraggio di intraprendere con consapevolezza una vita che è tortuosa o comunque vie che non sono le più semplici, perché attenzione, le persone che sanno affrontare le sfide, che sanno affrontare i rischi della vita non sono persone senza paura, ma persone coraggiose che sanno affrontare la paura. E poi persone che amano la vita per quello che è nel presente, che riconoscono la propria fallibilità in quanto esseri umani e accettano l'essere degli absolute beginner, cioè degli apprendisti del quotidiano, degli apprendisti in ogni evento di vita che si trovano a dover affrontare. E quindi il senso di sfida, che include la visione dei cambiamenti come incentivi e opportunità di crescita. Chi è ottimista è sicuramente una persona già predisposta al cosiddetto pensiero laterale del problem solving, perché chi è ottimista tende a sminuire le difficoltà della vita e a mantenere una maggiore lucidità per trovare la soluzione ai problemi. Ed infine la persona resiliente affronta ciò che lo ostacola per cercare di superarlo con saggia, audacia e con senso di autoefficacia. Ci possono essere dei componenti che sviluppano ulteriormente la resilienza in un soggetto? Molto frequentemente c'è correlazione tra resilienza e l'essere primogenito. L'avere un buon temperamento, una sensibilità, una capacità di autonomia uniti alle competenze comunicative e anche relazionali, sociali. L'autocontrollo, la consapevolezza, la fiducia e la presenza del cosiddetto locus of control interno, ovvero la credenza di poter essere protagonisti della propria vita e quindi ad avere una buona capacità di controllo anche degli avvenimenti esterni. Per quanto riguarda invece i fattori protettivi a carattere familiare, noi possiamo trovare un buon clima di famiglia, una coerenza nelle regole, il supporto dei parenti e la capacità di avere uno scambio comunicativo ed affettivo lineare, pulito, trasparente e per nulla ambivalente. È possibile allenarsi in qualche modo per essere più resilienti giorno per giorno? Naturalmente esponendosi a quelle che sono le nostre paure, a quelle che sono i nostri timori e soprattutto andando oltre a quelli che noi reputiamo essere i nostri limiti, perché forse quei limiti sono tali solo perché non abbiamo ancora osato andare oltre o forse perché fino a quel momento abbiamo accettato delle regole di convenzione ma che in realtà non raccontano la nostra capacità di adattamento e di superamento di rischi e di sfide. Grazie dottoressa per i suoi consigli. A voi. Grazie a voi per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata. Grazie a voi.